Oggi vengo presentata da un gruppo di maggioranza politica che è già alla guida di questo comune. Questo gruppo di persone si è conosciuto 5 anni fa, nel 2014, e ha lavorato insieme, sempre in modo forte e coeso. E la mia candidatura è l'espressione appunto di un percorso che ci ha condotti fino ad oggi. Vengo da due mandati amministrativi, ho lavorato con due squadre e con due sindaci. Sono cresciuta solo grazie a loro e la crescita devo dire che c'è stata nei confronti, perché se le persone ti danno sempre ragione, tu non cresci. Quindi tanti confronti, i primi 5 anni di un tipo, i secondi 5 anni c'erano persone diverse, quindi i confronti sono stati sempre costruttivi, a volte dedicati, di poco conto, a volte invece importanti e dentro ogni confronto io mi sono lavorata internamente. E quindi mi sono sempre messa in discussione come agisco, perché chi sta davanti mi dice un'altra cosa. Cerco di interrogarmi sulle ragioni che ha la persona ingiunta, che ha la maggioranza, che ha quel consigliere. Quindi oggi io ringrazio ognuno di loro, e li vorrei chiamare tutti per nome, per quanto mi hanno permesso di crescere. E li ringrazio per la grandissima fiducia che oggi ripongono nelle mie mani. Ma è una fiducia che io, così come la prendo, la rimetto nelle loro mani, la condivido con loro, perché ci aspettano tre mesi incredibili, 91 giorni esatti di corse, di progetti, di apertura, di confronto con la gente.